Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale eccoci qui di nuovo con Uncharted proseguiamo da dove ci siamo lasciati siamo con la collection quindi con il primissimo capitolo siamo partiti dal primissimo capitolo Drake's Fortune e adesso vediamo vediamo andiamo di proseguire siamo al capitolo 3 abbiamo trovato un sottomarino nazista nella giungla e adesso vediamo di insinuarci qui sul sottomarino ok si direbbe che tu debba arrampicarti fra queste scogliere per raggiungere l'U-Boot eh quando mai basta che non ci sfragelliamo allora aspetta andiamo a destra a sinistra ok allora aspetta un po' più in qua e ci prepariamo per sfragellarci con ogni probabilità prendiamo un po' di rincorsa l'U-Boot occhio si potevamo fare anche una cosa meno acrobatica ma a noi ci piace l'acrobatica oppela come detto vi consiglio di seguire questa serie perché il gioco dai eh oh disa no lo cazzo va ah io l'ho apprezzato tantissimo all'uscita poi comunque ancora molto fruibile sta rimasterizzazione ah no aspetta qua dobbiamo salire fermo fermo che se no facciamo il botto qua ok altro tesoro ho trovato no in realtà forse non dovevamo salire forse ci faceva salire semplicemente per prendere il ci usciamo ad attaccare alla cordicella quanto pare no e allora proviamo a fare una cosa ad andare da quest'altro lato in questo modo magari ok non era la cordicella io opterei per un salto dall'altro lato se gliela fai tieni gli occhi aperti la strada è lunga eh saliamo ok strada è lunga ed insidiosa vai ste panoramiche molto ma molto fai il primo devo essere onesto è quello che mi è piaciuto di più anche il secondo non è male il terzo un po' meno e forse si inserisce insieme al primo il capitolo per playstation vita che ad essere onesto non mi è dispiaciuto per niente aspetta qua non mi devo buttare presumibilmente se no c'è una brutta fine occhio no dimmi che posso risalire da qua perchè hai fatto un salto un po' random ok si ci siamo buttati a bomba diciamo non era prevista come cosa ma me con estrema c'è qualcosa che brilla guardi non saprei divertente vabbè magari qualche collezionabile se lo troviamo così lo becchiamo prendiamo tanto se andargli a cercare tutti non mi sembra a caso anche perchè come detto già l'ho l'ho platinato per quando usci per playstation 3 quindi tanto per rigiocarlo mi aveva preso molto quindi non è che sia un amante dei trofei a parte qualche gioco mi piace prendere un po' di tutti sono dentro cosa vedi deve essere successo qualcosa di brutto a questi tizi c'è sangue dappertutto è un bel macello cosa vai vai apriamo ce la facciamo occhio per quanto riguarda questa serie ragazzi vorrei fare video abbastanza lunghi prendetela un po' come una serie tv perchè come detto sono tre capito io poi non so se li farò tutti o meno questo in realtà dipende più da voi che da me perchè alla fine avendoli già giocati rigiocati tutti magari me li posso giocare per conto mio tutti quanti però se vedo che apprezzate il gioco spero lo appreziate perchè è un gran bel gioco una gran bella serie cercherò di di farli tutti e quindi vorrei fare video un po' più lunghetti così andiamo avanti abbastanza agevolmente e questo dove l'hai preso amico in decomposizione direi che siamo sulla buona pista come mai diciamo che ho appena incrociato un tizio con le tasche piene d'oro spagnolo le monete sono coniate con un marchio che non ho mai visto prima mi stai prendendo in giro sembra che i nostri amici tedeschi avessero un piccolo segreto cerchiamo di scoprire questo segreto sempre se riusciamo ad aprire il portellone poi se riesco a dividere anche i video per capitoli sarebbe male purtroppo nel titolo non entra tantissimo perchè più lungo di tanto non si può fare quindi mettendosi al nome della collection diciamo che del gioco che stiamo giocando non è che posso scrivere più di tanto al massimo capitolo 1, 2, 3 eccetera come ando come ando Sono nella cabina del capitano. Senti qua, lui è ancora qui. Cosa intendi dire? Eh, sembra sia stato ammazzato. Fatto a pezzi, a dire il vero. Brutto modo di andarsene. Sì, è terribile. Controlla la sua sacca. Che uomo di cuore sei, Sally. Non è possibile. Deve essere uno scherzo. Trovato qualcosa, ragazzo? UK 2642. UK. UK. UK 2642. Eccoti qua. Tutto bene? Sally, non ci crederai. Vediamo. Ho trovato la pagina che manca. Non può essere. Sembra che Drake e gli amici tedeschi cercassero lo stesso tesoro. E io ho la mappa che ci porterà dritti, dritti adesso. Nette, spero che non sia un altro girare a vuoto. Dobbiamo tirar fuori qualcosa da questo viaggio. O cosa? Sally? Sei lì? Sullivan? Ok, Sal non risponde. Vediamo qui se c'è dell'altro. Quanto pare no. Quindi possiamo andarcene. Andiamo di... raggiungere l'uscita. Aia. No, no! Questo potrebbe essere un bel problema. Ok, vabbè, siamo usciti dal botolone dei missi. Va bene uguale. L'importante è darse. Salve. Eh, salve. Ehi, ehi. Sono amici tuoi, Sally? Sono Gabriel Roman. Già, lo so chi sei, strozzo. Sta calmo, ragazzo. Questi sono solo affari. Cammino. Piano. Mani in alto. Ok, sono in alto. Il tuo amico mi deve dei soldi, Drake. Un sacco di soldi. Così, quando ha detto di essere su qualcosa di grosso, la scoperta di una vita, ha detto. Beh, la cosa mi ha incuriosito. Ma aveva già fatto grandi promesse in passato. Vero, Victor? E adesso ci siamo ancora. Un altro buco nell'acqua. Cavolo, è sempre così logorrorico. Vacci piano, Navarro. Allora, temo proprio che il tempo sia scaduto. A meno che non abbiate trovato qualcosa lì dentro, signor Drake. Qualche cosa che possa compensare tutti questi fastidi. Ti sta fregandone, ci hanno sentito. Dagli la mappa. Piano. Che c'entra una mappa della Chris Marine con il dorado. Credete forse che sia una coincidenza? I tedeschi cercavano il tesoro e la mappa è di sicuro collegata. Allora, siamo pari? Per adesso? Ma nel caso servisse un promemoria... Ehi, dai, lascialo fuori. Esatto, di solito non tagliate un dito, roba del genere. È troppo volgare. No, credo che questo gli farà più male. Ehi, 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 aspetta Roma. Lui non c'è. Sali! Sali! Ficca di puttana! Ciao, Mose. Via, via. No, ma non così. Ma che cos'è? Ma mi scusi. Ma anche lei. Ok, aspettate. Come vi ho detto, ho qualche problemino di prospettiva. Ok, combo brutale è andata. Damose. Ehi, la cowboy. Aia. Questo è però di lasciata al molo. Cosa diavolo ci fai qui? Sono abbastanza in gamba da seguire una coppia di ladri di tombe. Sshh! È andato da questa parte! Comunico via radio! Beh, ora hai a che fare con un ladro solo. Sali è morto. Cosa? Sì. E i prossimi potremo essere noi. Certo, mi dispiace. Dimmi, ce l'hai una pistola? Ma certo. Grazie. Andiamo. Ok, allora, aspetta. Da dove sono venuto? Da lì, presumibilmente. Non lo so. Posso arrampicarmi? Eh, ho capito, ho sbagliato. Sì, me ne so accorto. No, cercavo di arrampicarmi. Magari c'è qualcosa da raccattare. Non... Saprei. Di solito quando mettono sti cosi... Non che non sono gli stessi di prima, cosa... Possibilissima. Che? Sei meravigliata della mia sportivigenza? Lascia fare, signori. Ma che spar... Lì, mortacci tua. Occhio. Aspetta. Momento. Ok. Eh, purtroppo, qui, là, il recupero delle munizioni è... Pare che tu ti faccia sempre sparare. Ehi, stanno sparando anche a te. Diamo sempre un occhio. Ci sta aspettando, eh? Da quella parte! Aspetta! No, c'è. Sto diventando bravo. Bene. Aspetta. Lo vedo. Eh, le munizioni purtroppo non le riprende in automatico, quindi dobbiamo... Oh! Aia! Ma come... Ma come... Signorina, non è proprio coperta lì, eh? Vediamo. Posso? Ci fare. Occhio. Chi è il figlio di Troia? Aspetta, è meglio che scendiamo. Quanto c'è lei che ci copre? In modo pessimo. Cambia spalla, cazzo. Zitti, zitti. Lo sta a prendere, però. Eh! Ha fatto meglio lei che io. Occhio. Stai qui. Eh, stai qui. Ahia! Posso coprirmi indietro o me ne casco sotto? Dove? Dai, non mi faccia perdere tempo. Buon uomo. Eh, provo sempre ad andare... Con il... Con la testa, ma... Non è sempre easy. Poi, come detto, devo fare un attimo... Che cavolo di posto è questo? Pratica di nuovo con i comandi. Storia lunga. Te la racconterò poi. Mi segua, mi segua. Ci rifacciamo la strada al contrario. Faccio di sua. Bene. Occhio. Aspetta, mi scavalcare, ok. Che fa, il furbo? Aspetta, che maledetto. Guarda che maledetto. Perfetto. Sono da quella parte! Quel momento... Ahia! Difficoltà normale ci può anche stare. Mi ricordo che a difficoltà distruttivo... In alcune fasi... In alcune fasi... Panico assoluto. Allora, qua avevamo fatto scendere la scala. Mi faccio il giro per vedere se c'è qualcosa. No. Vabbè, quindi riendiamo alla scala. Lei mi segua? Ecco, già si prepara... La zona... La sparatoria. Merda. Ok. Aspetta, che a te non ti vedo. Ok. Munizioni? Non c'aveva niente questa. Ok. State. Dove stanno? Anche quello dietro di te... Però in modo più sportiveggiante. Aspetta, il cappellino, il cappellino... Oppela. Forse devo diminuire un po' la sensibilità perché... Vabbè, già che ci siamo usiamo anche un po' questo giusto per farvelo vedere al momento. Poi avremo modo di utilizzarlo, non mi preoccupate. Perché con questo è un po' più difficile fare... Ahia. Oh. E copri. Cazzo. Ci sta a stare incoglionita qua. Un po' più complicato fare degli upshot. Scusi, eh. Ci ho messo un po', ma... Questi che armi avevano? Vien. Allora, signorina, lei mi deve essere un po' più utile perché così mi sta solo facendo... Perdere tempo. Cerchiamo di... Munizioni siamo al massimo, ok. Forza, stai con me! Non c'è risposto, quindi probabilmente o è morta o... Che cazzo! Poi siamo in mezzo alla boscaglia, quindi questi si mimetizzano i bastardi. Guarda come si muovono. Bella. E soprattutto guardate come urlano dopo che li abbiamo sparato in testa. Non sappiamo come facciano, no. Va bene. Sì, spero. Cercavo munizioni eventualmente. Di qua? Ma di qua tipo su o di qua tipo... Do cazzo è andata? Ah, di qua tipo qua. Vabbè, signorina, allora, attenzione, c'è una cipina con delle foglie abnormi. Sei sempre così popolare? Beh, evidentemente attrago la feccia dell'umanità. Senza offesa. Non preoccuparti. Hai buona memoria? Sì, perché? O K2642. Sentito? Sì, cos'è? Coordinate della Crix Marine. Forse so dove gli spagnoli portarono il dorato. È il dorato. Il problema è che lo sanno anche i bastardi che hanno ucciso Sally. Maledizione! Se gli spagnoli hanno trovato il tesoro, devono averlo trasportato su quell'isola. Vedrei chi ha seguiti. Beh, allora che aspettiamo? Io avrò la mia storia e tu quello che stai cercando, qualunque cosa sia. Sì! Forza! E guarda che non sarà certa una vacanza, eh? Io so badare a me stessa. E poi tu sei indebito con me. Già, credo di sì. Siamo alla ricerca del tesoro perduto di Eldorado e ci ritroviamo qui, su questa isoletta, in mezzo all'oceano Pacifico. Guardiamo più da vicino. E speriamo di essere i primi arrivati. Scopriremo le rovine di una colonia perduta e troveremo una fortuna in oro spagnolo? O l'isola ha custodito per noi i segreti più misteriosi? Serve a non farli cambiare canale. Che cosa diavolo era? Che ne so, la contraele? Questa non è una bella cosa! Oh cavolo! Andiamo a fuoco! E basta con quella telecamera! Buttiamoci giù! Buttarci giù! Ma questo caso hai, paracaduti? Forse è il momento di appurarlo. Spero che funzionino ancora! Lo scopriremo tra poco. Ti sei mai lanciato prima? Ma certo! Devi solo saltare! Conti fino a cinque e dire la corda! Vai ora! Tu non vieni! Sono un po' impegnato al momento! Vai! Ci si vede a terra! Sono già lì! Sì, ok! Che cosa sto facendo? Ok! Basta saltare! Cinque! E tirare la corda! Che sarà mai? Oh cavolo! Uno, due, tre, quattro, cinque! Porca tutta tuttissima! Sì, ok! Oh! Oh! Accidenti. Vabbè. Davvero un attimo inizio Nate. Si direi di si. Ci possiamo stare. Anche il sarcasmo del gioco è un aspetto che lo rende e lo ha reso. Uno dei migliori titoli della scorsa generazione. Abbiamo una pistola magari facciamo con quella. Si. Ok. Non erano poi così resistenti questo cancelletto ma va bene. C'era qualcosa che brillava o sbaglio. Si. Ok. Altro collezionabile preso. Se non ricordo male questa era anche la prima pa, cioè la prima pa, la parte che veniva mostrata nella primissima demo di Uncharted ormai secoli fa. Si perché mi ricordo questa parte con il laghetto. Cascatella. Se non sbaglio. Allora vediamo qui dov'è che possiamo passare. Passare. Giustamente avevano sfruttato il fatto di. Il personaggio dell'acqua come veniva resa. Occhio. Cazzo. A appunto di. Drake che si. Inquacuerava. Con l'acqua. Occhio. Arrivano. Aspetta. Lascio fuori prima Non là sopra Buon la volta Guarda Guarda che E mori Ok Se qui non è stato implementato O forse non Ce l'ho disattivato io Il fatto che prima si usavano Il six axis del controller Quindi dovevi muovere Destra sinistra per non cadere E' anche evitabile Meglio così che l'abbiano tolto Merda Scusi Faccio per lei Bombe Ok Carichiamoci anche di bombe Aia Venga anche lei Ce n'è uno anche per lei Ho fatto anche lo sconto Un colpo solo Cosa vuole di più dalla vita Daie Vediamo se riusciamo Allora io direi che ci possiamo anche Oppela Qui ricordo che c'erano Un bel po' di nemici Aia Aspetta volevo prenderlo in testa Ma non gliel'ho fatta Scusi Metta la testa Aia Eh lo so E' che cos'è Bene Aia Più cattivi Già che ci siamo Lo siamo un po' Il metro Ossi Tacci su Ah mica l'avevo visto Guarda come si era Mimetizzato il bastardo E' non muore mai C'è un colpo alla caviglia Ed è saltato in aria Ancora Merda Ma è splogano sti cosi C'è Aia Aia Un po' lontano Ma com'è Merda Vado meglio con la pistoletta Comunque Bene Eccolo lì Ancora Ma che spara per uccidere Aia Vabbè ho capito Merda Merda Eh vabbè cazzo però eh Mi sei impallato dietro al muretto Do sto Si si Don't worry fratello Aia E a distruttivo Si moriva dopo due colpi Chi l'ha giocato Lo sa Guarda E metti fuori quella fottuta Eh vabbè Comunque Per dire L'intelligenza artificiale Non è Era comunque Fatta male Sono munizioni Assolutamente Perché Sono a corto Possibile Scusate Che questi Non c'erano Munizioni Che mi sparavano A sputi Prendiamo Il pompazza Ricarichiamo Nel frattempo Si avevamo anche Le bombe In realtà Ma Preferisco Paracchiare Così Allora Ah qui c'è la kappa Non lo so Mi tengo il pompazza Quasi Pompazza non è male Poi ci sono parecchie armi Ognuna Aia Naturalmente con le Proprie caratteristiche E ognuna con i propri Trofei o medaglie Ora non so se sia Ancora così Che questa Remaster Presumo di si Eh Aspetta che non mi ricordo Se era da qui O dobbiamo No Forse dobbiamo ripassare là Vorrei fare cagate Ok Ci ricarichiamo un po' E' finita Bule Portacci Due Ma Aia Ecco stavo dicendo Ma attraverso il cancello Li becchiamo Loro ci beccano Quindi Presumibilmente Vorrei liberare un po' La zona Prima di farmi Chiappettare Mazzamolo Dov'è? E basta Aspetta Anche lei Non mi perda di vista Occhio Anche io la vedo Buon uomo Poi Il fatto che non la becchia È un altro volto Ma ne abbiamo beccato Tipo due Di headshot Da panico Ce n'è un altro Comunque Non so dove sta imboscato Ah eccolo Guarda che Bastardo Aspetta No No Rivoglio il mio Pompazza Adesso lo usiamo pure No Deve venire più vicino Perché Merda Vabbè Rimettiamo la pistola È un po' troppo lontano Per il pompazza No Penso che Per lui non ci sarà Un domani mattina Questo è un dubbio Oh merda Ok Adesso si è da pompazza Si il pompazza Non mi sono mai trovato Benissimo In realtà Tipo così A parte che doveva morire Lei buon uomo Le ho tirato una Compazza Sulle gengive Facciamo che ci riprendiamo la cappa Se lo troviamo Perché Mi trovavo meglio Momento Diamo comunque un'occhiata Per vedere se c'è Bombe Credo Ecco Ne abbiamo abbastanza Pistola Anche Vabbè Allora Proviamo a salire qui Possiamo sia andare lì Che presumibilmente Dobbiamo andare lì Aspettate però Qui c'è Qualcosa che brilla Ok E adesso possiamo proseguire Da quest'altro lato Occhio Occhio qua E non mi mettere la telecamera In modo Abusivo Ah lì c'è un mitra Qualcosa anche lì Che brillava Ma non avevo capito Mazza e volo Non ci siamo fatti Neanche i nienti Quindi Estrema sportiveggianza Ok qui Quindi Niente di Cattivo Aspetta che c'è Vabbè facciamo Ecco me Vabbè famone uno alla l'altro Guarda che se poi ci incartiamo così Scusi eh Dov'è l'altro? Sento dei Fucili a pompa Estremamente aggressivi Quindi Però li sento dall'alto Non vorrei dire niente Scusi eh Ahia Ok si fa scivolo Che fa il furbo C'ho pure il pompazza In realtà lo cambio volentieri Con la K Sì mi trovo meglio Aspetta aspetta Da sto lato Eh batte la pesca Doppia strada Doppia possibilità Di perderci Sì Ma in realtà È qua che dobbiamo andare Quindi facciamo una cosa Come sempre Andiamo Dalla parte opposta Rispetto a quella giusta Perché Si potrebbe nascondere qualcosa E infatti Eh si di solito Collezionabili Documenti Nei vari giochi Stanno sempre Della parte opposta Rispetto alla strada normale Ormai Mi ho fatto l'abitudine Questo Allegra Sì basta che non spara O fa dei danni Poi per il resto Può essere allegro o meno Ce la facciamo? Noi ci proviamo eh Là Eh non ce la facciamo no Mi sa che abbiamo esagerato Mazzà che volo Vabbè almeno siamo caduti in acqua Ora Non sarà Eh ok Mi ha indirizzato lui Da questo lato Ok saltare il libero Magari Arrivarci in modo Meno sportive Ma noi ci proviamo sempre Vai Ce l'avevamo provato Occhio Ogni tanto cadere Cioè l'avevamo già visto Guarda sì basta Sali sali Ok Allora la finiamo? E' tutta sta confidenza Stessa cosa anche qui Oppela Viano Eh no Là non ci arriviamo Quindi presumo che dobbiamo fare Così Vedo una sega Ok Allora Più giù E andiamo Più giù E poi là Aspetta Non mi cambi la visuale No eh Cazzo Porca troia Aspetta non vedo niente Vabbè Andiamo a istinto Eh Sì la visuale Eh Spesso tende A farti sbagliare Aspetta Stai calmo Ah guarda che precisione Va Forse Perfetto Ci arriviamo là Sì Quanta agilità e leggiadria Cosa che nella realtà Impossibile Cioè Queste Ah guarda quei figli di Normalmente sarebbero Piene di muschio E di Cosa Squish Merda Ero convinto Di averli presi in testa Invece Hanno preso loro Ma malamente proprio Vabbè Quanto Iria l'acqua Dovrebbe essere bassa Quindi non credo Ci sia Tutta sta necessità Di fare l'Indiana Jones Però Noi ci proviamo Bombe non ci servono Munizioni per pistola Sì Abbiamo sprecato un bel po' Ok Ci siamo Aspettate Questo qualcosa che Brillava qui sotto Vediamo se riusciamo a saltare Dall'altro lato Dovevamo saltare Dall'altro Penso di sì Vai vai Occhio Ok Andiamo qua Non lo so Ok forse no Mi scusi Mi sono perso Ah qui Ok Dai che c'è la pianta Cazzo Ok Si mimetizzano un po' Troppo Ste piante Ok Abbiamo trovato Un pezzo Dell'aereo No Anche l'altro Con un po' Di gente Ok Siamo arrivati anche all'aereo Anche qui mi ricordo la difficoltà Un po' più Allora se riusciamo Cerchiamo di fare Tutti headshot Non è vero Scusate No Dov'erano No In amicizia Tanto ci stiamo Che vi servono In realtà con Le tre mi ricordo Che potevano Utilizzare sempre Gli assi Della Pad Per Guarda Qui li ho dietro Per lanciare Più lontano La bomba Qui Anche no Anche no Ho lasciato io Qualche tasto indietro Qualcun altro Se c'è musica Ci sono nemici Infatti Allora Lì c'è un barile Che esplode Quindi Eh no Troppo Fatto fuoco Seguito le sue Indicazioni Scusate Mi servono Estremamente Punizioni Per la pistola Merda Occhio Che questo Che è il pompazza Questi col pompazza Sono sempre Più cattivi Do sta Ma facci su Aspetta E col pompazza Ci sono malissimo Vaffanculo Non pare messo bene No direi di no Però darei anche un'occhiata Qua per riprendermi Un po' di munizioni Eventualmente La bomba Ce la prendiamo Pompazza Te lo lascio Aspetta Non funzioniamo La cappa Stiamo al massimo Pistolano Andiamo Andiamo Ok Bella sei Ok Non mi sento Molto al sicuro Facciamo che Scendiamo Ahia Arriva gente Arriva gente Lo vedi si So io che non ci vedo Eh che cos'è Petty Buon uomo Scusi eh Bene Mazza che salti però Ancora Fa la stessa fine Dell'altro eh Io lo dico Dovrebbe fare male Dai E non vi imparate Però Altri Scusate State a fare Un mattatoio Adottate altre Tecniche Magari No Io lo dico Per voi No Ripia La cappa C'ho più colpi Per la cappa Non fate i furbi Aia Tacci loro Bene Ripeto con la pistola Perché Dalla distanza È più precisa Opetta Adesso c'è Su macello Occhio Sì se li riusciano a prendere Scusate ma se io non vedo loro No T'avevo preso in testa Giovane Fate i furbi Pompazza Pompazza Ok Modi la cappa Da più soddisfazioni Anche se in realtà La pistola è il meglio Vorrei dire niente Armi qua Armi in lama La pistola Guardate che bello scorcio Oh Aspetta ma Mi stavo Ammazza però Mi stavo Stavo guardando lo scorcio Panorama Quindi occhio Resisti Elena Attenzione altre fasi di No Aspetta saltiamo O Sì saltiamo Proviamo Eccala Che voglio non fare stronzate La Ok Merda Aspetta Ah porca troia Ma scusate Ma Armi convenzionali Proprio Allora aspettate va Facciamo che prima Faccio fuori quello Con lanciarazzi Ma è per sfiducia Allora Faccio Poco Il furbo E da qua non è facile Prenderli in testa In realtà No La bomba La tieni tu Fate poco I furbi Occhio Merda Stavo per fare Una bruttissima fine Dai che c'erano Delle munizioni Ma Vasti Di lato Eh ma gli estremi Estremi rimedi Attenzione che lì c'è Su Macello C'è gli altri E muori Che cos'è Possiamo Prendo sempre occhio Dove Eccalo Oh no Vabbè anche con la pistola Non è male Il problema è che Allora Dov'è il cavo No Pompazza Non lo voglio Perché ho visto Che quello C'ha Ecco Dobbiamo stare attenti A dove camminiamo Queste già Sono sparate Non ho capito Sì ma come Cazzo Passo E là Ok così Ok Va bene Ce l'abbiamo fatta Qualcosa qui Oh sempre qui c'è un bello scorcio Ma starei comunque attento Perché di solito I scorci non ci portano a niente di buono Sono fucilate estreme Aspetta non vedo dove sto andando Stai scherzando Ok allora ragazzi Siamo arrivati al capitolo 5 La fortezza A questo punto direi che ci possiamo salutare qui Ci fermiamo direttamente E qui Ci vediamo con il prossimo appuntamento Con Uncharted Mi raccomando come sempre commentate Fatemi sapere la vostra Se potete condividete i video E seguitemi anche sulla pagina Facebook Ci vediamo al prossimo appuntamento Allora un saluto a tutti da quel taleale